Ciao ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi, come tanto promesso, ti mostro come trovare le quote di valore, le cosiddette value bet, in maniera del tutto manuale, senza spendere soldi per comprare strumenti costosi. Ti mostro come farlo in maniera manuale e ti mostro come farlo in maniera semi-professionale, così capirai quale sono alcune delle basi che servono per utilizzare e costruire anche uno strumento che possa rilevare le quote di valore. Allora, detto questo, prima di iniziare ti invito sempre ad iscriverti al mio canale YouTube, puoi farlo tramite questo famosissimo pulsante rosso, mi raccomando, clicca anche sulla camparellina in modo tale che potrai ricevere gli aggiornamenti del mio canale YouTube. Detto questo, andiamo e ti dico come al solito di iscriverti al canale Telegram, scommesse vincenti, puoi tranquillamente trovarlo sulla barra di ricerca di Telegram, perché è gratuito, è a libero accesso, ti invito ad iscriverti, così almeno puoi osservare com'è il semi-professionismo, operiamo tutti i giorni a quota media 2 in pre-match. Se non riesci o non ti va di fare questa ricerca su Telegram per trovare il canale, ti metto tranquillamente il link del canale Telegram in descrizione a questo video. Detto questo, entriamo subito nel vivo dell'argomento, facendo però quella che è una premessa. Allora, dobbiamo dire innanzitutto che il metodo che ti sto mostrando ti permette di trovare le quote di valore manualmente, questo è vero. Siccome non abbiamo e non possiamo praticamente, non abbiamo uno strumento professionale e quindi non possiamo calcolare quello che sono i dati che riesce a calcolare, che calcolano il bookmaker, praticamente nella nostra analisi andremo a dare un 40% delle quote che il bookmaker ci presenta per un match, andremo a dare questo 40% come scontato, perché sono quei dati e quelle statistiche che vengono calcolate dal bookmaker con estrema precisione e che quindi, in ogni caso, anche se avessimo uno strumento estremamente professionale, andremo a avvicinarci molto a quelle che sono, a quello che è quel 40% che, diciamo, ha analizzato il bookmaker per noi. Quindi è quel 40% che noi in questo video daremo per scontato, è quel 40% delle quote che formano il bookmaker che noi diamo per fatto e per corretto. Questo è quanto. Detto questo, allora noi andiamo ad analizzare un 60%, che sono praticamente delle variabili, delle macro variabili, con all'interno delle micro variabili, se segui i miei video sai di che cosa sto parlando, praticamente sono tutti quei dati che possiamo praticamente determinare noi seguendo una serie di variabili, ok? Quali sono queste variabili? E le vediamo subito in maniera dettagliata. Proprio per l'occasione io ho creato un file Excel dove ti mostro come è possibile calcolare le quote di valore manualmente e ti do praticamente queste variabili e te le evidenzio in maniera tale che tu possa comprendere quali sono quelle più importanti e quali sono quelle meno importanti. Detto questo, ovviamente prendo in esame un match che è un match di circa due settimane fa in realtà da quando sto realizzando questo video e è il match che ha visto protagonisti dell'Atletico Madrid e Valencia. Io non mi ricordo sinceramente come è finito il match ma le quote, le andiamo a vedere adesso, erano più o meno queste. Prese dal bookmaker Bet365 non per fare pubblicità ma per essere chiaro anche perché non mi pagano per sponsorizzarlo ci tengo sempre a dirlo ed eccoci qua, le quote erano un Atletico 1,80 il pareggio era X a 3,40 e il Valencia era quotato bene a 5. Bene, detto questo come saprai sicuramente per determinare le quote di valore o meglio, per determinare le reali probabilità che si nasconde dietro le quote noi praticamente dobbiamo fare semplicemente un brevissimo calcolo matematico che è 1 diviso la quota che ci interessa in questo caso 1,80 per trovare la reale probabilità che c'è dietro la quota 1,80 dell'Atletico di Madrid. Bene, facendo un rapido calcolo matematico vediamo che 0,55 è periodico quindi lasciamo 0,55 moltiplicando questo valore per 100 ovviamente andiamo a determinare qual è la reale probabilità che questo risultato in realtà si verifichi e quindi è il 55,5% non è nulla di complicato. La stessa cosa va fatta per le altre due quote quindi 1 diviso 3,40 facendo un rapido calcolo è 0,29 moltiplicato anche questo valore per 100 vedrai come esce fuori un valore che si gira intorno al 29,4% bene fai la stessa cosa per il segno del Valencia lo facciamo insieme perché ti faccio vedere un'altra cosa quindi 1 diviso 5 ovviamente fa 0,2 moltiplicando questo valore per 100 ovviamente siamo allo 0,2 moltiplicando o meglio sommando scusami questi valori 55 29 e 0,20 vedrai che in realtà la percentuale diciamo supera il 100% e tu mi dirai vabbè ma come è possibile dovrebbe essere il 100% preciso do una probabilità a un segno all'x al Valencia al segno 2 e quindi dovrebbe venire 100 la somma in realtà no perché c'è il cosiddetto agio e questo è un concetto che sicuramente saprai ma se non lo conosci sempre in descrizione ti metto il video che ho fatto dove ti spiego come calcolare l'agio ok che è un po' questo che ti ho fatto vedere in maniera abbastanza veloce allora noi avevamo detto cosa che dobbiamo dare un 40% di queste reali probabilità perché queste sono attenzione sono quote in percentuale noi abbiamo detto che dobbiamo dare un 40% e andiamo a vederlo subito cosa vuol dire questo ma è ovvio andiamo a vedere facciamo 40 per 55 questo è il calcolo che devi fare 55,5 è uguale a moltiplicando è uguale a se non erro 2330 ok dividendo 2200 aspetta facciamo facciamo subito il calcolo per essere più precisi e per mostrarti che sto parlando dati e percentuali alla mano facciamo il 40 per 55,5 fa 2220 2220 diviso 100 fa il 22,2% detto questo è questa quota questa percentuale è quel 40% che noi dicevamo che il bookmaker non sbaglia perché ha dei dati alcune volte più precisi e più specifici di noi e quindi questa percentuale noi siccome dobbiamo trovare le quote di valore manualmente la diamo per scontata ok detto questo fai la stessa cosa per gli altri importi e ti renderai conto di come in realtà le percentuali che escono fuori sono queste 11,76% e poi andiamo a vedere l'altra percentuale è questa che è pari all'8,00% ecco questo sono il 40% di questi valori qua molto semplicemente cerchiamo di dare un po' di ordine sapete sono un po' troppo ordinato ecco qua detto questo il 40% ma allora mi dirai Cristiano ma come faccio a calcolare quel 60% quel 60% che riguarda gli aspetti psicologici e mentali la condizione fisica i classifichi e i campionati che possono essere estremamente determinanti per la mia rilevazione della quota di valore ed ecco andiamo a ti mostro ci addentriamo praticamente su questo file excel che io stesso ho creato e che faccio una permessa non troverai da nessuna parte ma non solo questo ma più che altro ti ho lasciato non ho fatto le classiche non ho inserito le classiche formulette sull'excel oltre perché alcune non le so proprio inserire sono sincero ma altre ma soprattutto il perché è molto semplice perché la matematica di base parliamo di matematica di base questa che ti sto facendo vedere è molto importante perché ti fa capire quali sono i ragionamenti matematici che sono dietro le quote dietro l'analisi dietro il betting dietro il professionismo quindi sono cose che tu assolutamente devi conoscere la tua mente si deve abituare a fare certi calcoli poi ovviamente c'è la calcolatrice ti consiglio di utilizzarla non è che devi fare il genio della matematica ma la matematica ti basta e devi conoscerla ed eccoci qua entriamo in quelle che sono le macro variabili allora abbiamo qui gli aspetti psicologici questi sono molto importanti riguardano anche il body language quindi riguardano la sfera della psicologia delle emozioni umane ovviamente della prossemica della programmazione neurolinguistica insomma non è intorno al particolare ma sono una macro variabile molto importante quelle che vedi sotto queste più piccole sono delle micro variabili ok sono delle micro variabili ogni micro variabile è divisa per punti come vedi casa e fuori casa cioè il fattore casa e fuori casa che può essere determinante o meno viene diviso in punti come vedi abbiamo un'altra macro variabile anche questa delle micro variabili classifica e campionati è la terza macro variabile dove dobbiamo andare a considerare e abbiamo altre micro variabili le micro variabili formano tra di loro sommate un valore preciso pari a 300 punti 300 unità queste unità ci serviranno per andare a definire quella che è la percentuale finale come vedi qua sotto del nostro 60% per andare a determinare le quote di valore ovviamente come si attribuiscono i punti ma è presto detto chi è che ottiene più punti ottiene più punti chi su quell'aspetto è favorito per esempio qui guardiamo la prima macro variabile ma sì ma certo casa fuori casa ok bene atletico atletico è favorito perché in casa in casa ottiene un tot numero di punti adesso non entro in merito della partita quindi è favorito per un aspetto psicologico perché sa ovviamente è in casa e per altre ragioni ovviamente parliamo di determinare le quote manualmente quindi sei tu che devi andare seguendo queste macro variabili ad attribuire un putteggio che secondo te dopo che hai analizzato il match risulta idoneo risulta idoneo per questo aspetto l'aspetto psicologico ovviamente di una squadra in casa almeno che non sei ad esempio all'Ajax con le dovute appunto eccezioni è favorevole è migliore rispetto alla squadra che gioca fuori casa infatti qui vediamo che oltre all'atletico Madrid che è più forte del Valencia andiamo a vedere che comunque è qui è favorita e gli abbiamo dato 12 punti ovviamente io sto facendo questa analisi a dispetto di quelle che sono i punti che vedrai qui che ho inserito sono a dispetto di quello che rappresenta la reale probabilità alla fine che i risultati si realizzano quindi questo vuol dire che ho inserito questi punteggi non avendo analizzato particolarmente il match ma attenendomi a un a un mio pensiero detto quindi non prenderli in maniera attendibile è solo un esempio per farti capire come devi ragionare detto questo le microvariabili poi vengono evidenziate qui in verde alcune di queste microvariabili vengono evidenziate in verde questo perché sono quelle più determinanti e che diciamo influenzano in maniera più importante quella che è la macrovariabile in questo caso aspetti psicologici quindi l'esperienza della competizione come vedi ha 30 punti le pressioni esterne 25 i giocatori determinanti 35 ecco pressioni esterne può essere veramente tante cose pressioni esterne può essere il fatto di avere una situazione particolare come poteva aver vissuto l'Inter con i cardi può essere una situazione in cui c'è un ambiente particolare dentro lo spogliatoio mi viene da pensare al periodo che sta vivendo la Roma e che ha vissuto negli ultimi 3-4 mesi anche tutta la stagione insomma sono quelle situazioni mi viene da pensare anche alla Juventus quando quest'anno anche l'anno scorso gli sono state messe molte pressioni sul fatto che dovesse vincere a tutti i costi la Champions League e quindi all'interno si è creato all'esterno si è creato un certo tipo di aspettative che poi forse non tutti i giocatori sanno gestire che lo spogliatoio non sa gestire al 100% come potrebbe essere invece una squadra come Real Madrid che è abituata e gioca diciamo quasi sempre in casa quando gioca la Champions League quindi insomma questo è quanto poi ci sono nell'aspetto dei giocatori determinanti i giocatori determinanti sono giocatori che possono essere dei leader all'interno lo spogliatoio e possono essere i giocatori determinanti ai fini della classifica perché riescono a realizzare un gran numero di reti e questo punto mi viene da pensare a Piontek per il numero di gol realizzati ovviamente a Cristiano Ronaldo ma a tanti altri a Quagliarella insomma per rimanere sempre nel capire della serie A condizione fisica e infortunati beh l'infortunati è molto semplice è un dato che è facilmente riscontrabile facilmente osservabile però bisogna anche capire qual è il peso degli infortunati ecco in questo caso in questo caso qui che vuol dire infortunati i punti vengono impostati in modo tale che chi sta messo meglio dal punto di vista degli infortunati abbia più punti di Atletico Madrid ad esempio 9 in questo caso rimane sempre un esempio la stanchezza mi viene da pensare alla Juventus delle ultime due finali senti la pressione senti lo stress ed ecco qui l'altra variabile arrivi morto in finale fisicamente cali giocatori determinanti è che in questo caso come stanno se un Daniele De Rossi nella Roma sta in ottima condizione fisica sappiamo che può fare veramente la differenza allo stesso modo un Cristiano Ronaldo ma anche altri tanti giocatori possono veramente essere determinanti se stanno bene classifica e campionati punti per obiettivi e qui in questo caso mi viene da pensare a chi quest'anno sta lottando per l'Europa League o per la Champions quindi è molto attaccato il calendario non esiste giocatore non esiste allenatore non esiste squadra che non faccia calcoli i conferenzi a stab eviteranno sempre di dirvi che fanno calcoli ma in realtà li fanno guardano la classifica guardano tutto e stanno particolarmente attenti a quello che può succedere se perdono vincono o pareggiano la partita del giorno dopo in virtù di tutte le altre insomma questo è quanto si attribuiscono questi punti in merito qui ovviamente ambizioni punti per obiettivi quindi l'Atletico Madrid per calendario forse è piazzata meglio e sicuramente può avere maggiori opportunità di generare un risultato positivo punti per obiettivi quanto tengono le squadre a raggiungere quel determinato obiettivo quanti sono importanti quei tre punti ecco per esempio per tante squadre in questo periodo in Champions League che ravitavano nella zona Champions in Europa erano importanti i punti quindi si aspettavano delle partite combattute a dispetto di quello come può finire nel match detto questo si attribuiscono i punti e come vedi la squadra favorita attribuisce a più punti rispetto a squadra sfavorita ecco qua vedi la differenza 162 76 62 per il pareggio detto questo si dividono questi punti per il totale dei punti quindi fai 162 diviso 300 infatti ho messo totale diviso punti totali per farti capire quindi 162 diviso 300 fa 0,54 che per 100 moltiplicato per 100 dà la percettuale del 54% questo vuol dire che a dispetto dei dati che abbiamo osservato questa colonna noi abbiamo attribuito all'Atletico Madrid di passare di vincere la partita per il 54% in questo caso l'x è data a 21% come abbiamo detto sempre facendo il calcolo 62 diviso 300 per il numero di punti totali uguali a il risultato moltiplicato per cento ci fornisce la percentuale che abbiamo identificato pari al 21% secondo quelle che sono le variabili che abbiamo calcolato e secondo quello che è appunto la nostra analisi manuale del match e per Valencia abbiamo 25% adesso noi ci ricordiamo che però dobbiamo definire il 60% di quel totale perché noi abbiamo detto che il 40% ce l'abbiamo già fisso abbiamo dato per scontato che è quello che ha canalizzato il book e quindi facciamo lo stesso discorso 60 per 54 il risultato diviso 100 uguale a 32,4 possiamo fare posso anche tranquillamente fare fare gli altri posso tranquillamente anche fare gli altri te ne faccio ti faccio quello successivo per non perderti troppo tempo però fatti perdere troppo tempo perché il risultato è quello quindi praticamente facciamo 60 per 21 il risultato che viene lo dividiamo per 100 e diamo un 12,6% anzi ti scrivo tutto perché mi sembra giusto farlo quindi 60 moltiplicato per la nostra percentuale che è uguale a 21 fa 1260 diviso 100 e il risultato è 12,6 dovrei aver fatto i calcoli in maniera corretta 12,6% detto questo detto questo che ho fatto il danno ma non è problema mio perché facciamo così e torniamo indietro quindi detto questo adesso andiamo a fare che cosa è il 40% del bookmaker quale era il 40% ma ritorniamo indietro il 40% del bookmaker per il segno che riguardava l'atletico di Madrid era pari a questa percentuale qui 22,2 e andiamo a prendere il nostro famoso file Excel facciamo 22,2% andiamo a sommare questo 22,2% ovvero il 32,4 cioè scusami sommando il 22,2 più il 32,4 non moltiplicando fa 54,6 te lo metto qua lo poniamo qua 54,6% quindi noi attribuiamo all'atletico di Madrid la probabilità di ottenere il 54,6% probabilità di vincere questo è il succo adesso vedrai che quando sommeremo le altre perché qui qui il 12,6 andiamo a cercare è l'11,76 che è questo il pareggio tra evidenzio 11,76 lo andiamo a fare 11,76 che andiamo a mettere sommando al 12,6 e quindi cosa succede fa il 24,36 detto questo passiamo di qua il 25% allora rifacciamo il calcolo di prima che è 60 per 25 il risultato fa 1500 1500 diviso 100 ovviamente fa 15 15% quindi poniamo il 60% del book ovviamente al 15% spero di aver realizzato i calcoli correttamente non credo di aver sbagliato quindi 15% detto questo andiamo a vedere qual era la percentuale l'8% 8% ovviamente fa il 23% ed eccoci qua quindi 54,6 24,36 23 ok detto questo 23 andiamo a sommare quindi facciamo 23 più 24,36 più 54,6 ma come vedi anche in questo caso facendo la somma te la pongo qui e com'è che viene 101,96 ma è facile perché ancora le quote il 40% del book ha praticamente dietro di sé si porta che cosa? si porta semplicemente il fattore attenzione qui ho ok ho fatto bene si porta dietro il fattore agio quindi ok quindi questo è quello che dobbiamo dobbiamo fare abbiamo terminato le le quote e andiamo a vedere noi avevamo detto che per l'atletico di Madrid il book mai cadava il 55% di possibilità di vincere noi invece ne diamo il 54,6 quindi praticamente è un punto quasi un punto percentuale in meno e e praticamente rispetto a quello che davamo noi quindi praticamente vuol dire che il book dà una quota più bassa più bassa rispetto a quella che daremo noi noi daremo matematicamente una quota più alta e loro invece mettono una quota più bassa questo è il senso del discorso ed ecco qui che in questo modo tu riesci a trovare a vedere quale sono le tue quote le quote che calcoli tu in base invece alle quote che calcola il bookmaker in questo caso qui non c'è valore per noi ma c'è sicuramente valore quando loro attribuiscono un 20% al Valencia e noi invece gli attribuiamo un 23% perché noi diciamo ci sono più probabilità che il Valencia vinca loro dicono le mettono di meno di probabilità quindi hanno il 20% che succede alzano la quota e alzando la quota ovviamente noi troviamo del valore detto questo spero di essere chiaro di esserti stato utile io questo file excel te lo metto sotto quindi in descrizione al video di youtube spero ti sia utile mi raccomando lascia like a questo video se ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici mi raccomando ricordati di iscriverti e ovviamente il file excel che ti metto sotto lo troverai pulito di questi dati li dovrai inserire ogni qualvolta tu per ogni match detto questo ti auguro un buon betting e spero di esserti stato veramente utile ci vediamo ai prossimi video grazie a tutti